bentornati a tutti gli amici della game tv siamo qui con il 7 episodio di the working dead stagione 1 e partiamo con questo nuovo gameplay io sono dietro perché c'è caldo siamo rimasti che dei tizi ci hanno invogliato con del cibo a portare ad andare alla loro fattoria e in un apocalisse qualcuno che ti invoglia col cibo non è una cosa non è un'idea e facciamo gli spoiler ad ogni minchia detto prima si mangiano le capre si mangiano con tutti gli occhi tra l'altro stiamo facendo stiamo finendo acqua a fottere noi si si oggi cioè dopo devi fare un salto portami dell'acqua se domani non ci arriva domani vabbè il messaggio di game non lo ascolto adesso e qua l'odio si sposta dall'herry però l'herry comunque devi morire sempre però questa non l'avevo vista che falle è stupenda chi è l'ha fatto? beh è Daniele grazie amici amici che tempo fa Cormano amici e qua un po' di sgui di Todd c'è pasticcio di carne e si andate a mangiare io penso che se c'è una cosa del genere mangio solo per la dura tu puoi si si mancazza d'altro non posso del genere la carne non la mangio venite abbiamo cibo a fottere posso così le nostre prezioni sono rispondate potremmo il nostro gruppo potrebbe venire per il giorno beh, come questo? voi andate a prendere il tuo amico vietnari e io preparare un po' di nero un grande pezzo per tutti voi fotterei è bello avere alcuni ragazzi che ci aiutano qui Dani, non ti vedi a me aiutare in la città? non ti vedi a me aiutare in la città? come non ti vedi con la città e ringrazio a tutti per la città qui? vorrei prendere a qualcuno con te ricordate, queste strade possono essere pericolose ma è bellissima io quando l'ho vista non l'ho capito i personaggi devo rire che quando l'ho vista non l'ho capito poi dopo ho guardato in basso a sinistra e ho detto cazzo no non ci ho fatto caso subito chi cazzo sei? ho guardato in basso a sinistra e ho guardato in basso a sinistra e che ci sono Ma prima di pensare di portare il nostro gruppo qui qui, bisogna trovare se questo posto è sicuro come ci sono state. Certo, ovviamente pensano che sia sicuro. Ma è sicuro per i bambini? Mi sento una scoperta di spingare. Non è un problema, ma magari ci sono altre cose che non funzionano e non possiamo vedere. E la scoperta della piscina di piscina? È una forma di bezzogliosa per vedere i loro piscini. Ok, guardo i miei occhi, e tu guardi cosa che puoi da me. perché come me è a cazzo durissimo anche lui no 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 non far cazzate hai mosso la camera hai mosso la camera non so più dove per dove inquadra non ci pensa stai inquadrando il televisione no comunque l'hai mosso di brutto è toccata col filo si è proprio girata adesso non so veramente cosa cazzo stai inquadrando non toccare così l'hai smrentiata ancora di più tu hai sempre detto il cazzo fallo dopo per ora soffri hai sofferto 7 episodi abbiamo fatto no 6 ah 20 minuti d'uno 2 ore 20 hai fatto così no dovevi farlo adesso che registri imbecille dai finisci cazzo non ce do c'ho la mentuccia la mentuccia mentucciosa ah sì anche io voglio fumare un'altra cosa vuoi fumare un'altra cosa sì c'ho il balsamico che mi rinflesca anche io voglio la menta per quello appuntito va bene non è mica un pacco giochi normale che c'è della bencina è vero non ho fatto un sospiro ti ho fatto non ho fatto cosa cazzo sei matt non hai mai visto la corsa più pazza del mondo ma di cane. Il compito Matrix. Matrix, Matli, Matrix. E non era la cosa che mi ha fatto nel mondo quello. Mi diceva la medaglia, la medaglia. C'era Stop the Pigeon? No. Anche lì ce l'hanno tutto. Stop the Pigeon, stop the Pigeon. Vabbè, non siete riusciti perciò. Sono stati più forti. Non parli con Don Lurio. No, perché se non parlo con lui è il dialogo finale. Prima andiamo un po' in giro. Saremmo lo Stati. Ho visto queste piante qua dietro. Che esattamente se non un'erqua diverso il compito. Questo è il 2012. Ed è un gioco fatto così. Andiamo a cercare un asse che l'ho vista prima. È la corda che io non ho visto. La corda non c'era. E non ho detto che serve donasse una corda ancora. Dovevo cercare una corda allora. Fai anche suoni in onomatopeici per me che non lo ascolto. Screak. Nick. Per me che non lo ascolto. Sono Johnny. Fufufufufu. Clevo. Sì. Sì. Vuoi? No, posso vedere. Sì. La bocca. Ma poggia la bocca la bocca. Perché è la parte più lunga quella e la fai sbattere contro la sedia. Sì. 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 Sai quante bestie metti dopo quando li vedi il video e ti si vede solo te? Te lo faccio rifare guarda. No. Non si può. No. Si faceva il secondo capitolo e registri da qua. No, no, no. Tanto si sente l'audio. Noi siamo piccoli qua in alto. Questa corda? Che non l'ha presa? Fica la presa. Ah. Ce ne erano due. Sicuro? C'è una pistola ma non c'è a fianco qualcosa. Bazzucca. 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 Però vediamo. Sono amici. Spoileriamo, spoileriamo. Spoilerissimo. Spoilerissimo. Mmm. La spezia. Mmm. Bzzucci. Cucu. Ciao. Ciao, lei. Che posso fare per te, sui? Cucina ci penso io. Non ti preoccupare lì. Vai tranquillo. Stasera spezzati. Comunque come ti sbattolo in faccia. Ecco come si fa un terzo episodio. Siamo ancora al secondo ma vabbè. Ciao Square. Che uno inizia così e dice, oh, si sono salvati tutti. Cosa è successo con il nostro staff? Io ho fatto un postagotto. Quella polenta. Ahahahah. A me si è capito. Dove vogliono andare a parlare. Altri sono rimasti qua nella cena. Gli altri mi hanno fatto i bruscita. Ahahah. Buono il bruscita. Purè bruscita. Cosa cazzo. È una vita che non lo mangio il bruscita. Eh. Cazzo. 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 Sneak? Non me lo fai? Eh? Buon signore. Non mi fai il crit? Comunque è un... Staccato fantastico guarda. Questo è come la finezza del Dark Souls 2. Uno lo può passare da qui. Poi non è caldissimo il cespuglio. no perché lui non vuole andare la gamba non vuole andare di là non ci sono le scale ciapa quanto resta solo secare il legno solo quella parte finale e uccidere le robe andiamo Lee Jones Tommy Harper Lee chi è che lo conosce Harper Lee? no qui è autore di uno dei libri più belli che avevi mai detto soprattutto uno dei primi libri che avevi mai detto quale? il cui autore sepia ho sentito il libro no non l'ho mai detto non ho capito non sarebbe una cippa però bene ti seguiamo come ti passa tu sai che avevo mai detto che avevo mai detto Andy e il suo figlio qui ogni mattina quando erano cittadini sembrava che abbia un tempo fa tanto tempo si 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 che è la fine di questo episodio ha una scelta tua attività è esagerata e tu l'hai scelto lì? eh lo vedrai wow vediamo se si può fare un po' di un po' di uno dai famonina picciotto lo chiamava dei bambini tu 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 cittadini ok guardimi posti e ho fatto tutto quale devo fare? prova a parlare con lui e chiedi se ha bisogno dell'altro ah il generatore devi dargli una mano a riparare devo andare a trovare le cose tinte adesso e come avete detto che facevano? ma avete detto il lattice dopo il bestiano non lo so vedete adesso ti fa aiutare forse che cazzo devo fare? se c'è qualche filo stacca qui nessuno scherza con noi aspetta che dovrò sapere che siamo pronti a sparare le infarce ma in mia esperienza avere così molte ucce è quando le persone si sono pericolose senti come si cerca di andiamo a riparare il perimetro andiamo andiamo no no non quella da dire vieni qua e lo butti sulla cosa elettrica e lo so lo so lo so lo so bella bellissima bellissima no è concordi concordi è un pezzo di merda è un pezzo di merda tipo una freccia perchè si è portata da casa no? lì è morto vabbè vabbè prudenza non è mai troppo la prudenza non è mai troppo no ma si deve fare che non l'ho fatto la prudenza non è troppo non è quindi non è senza il gas potremmo bisogno di cuore ma i St. John perlanno di gas non molti di gli potremmo un anno sulle quindi qual'è il tuo approccio sulle che hanno il posto adunque possiamo portare a questo luogo abbiamo sufficienti per fare se il sole con lo scotch e le cacole come lo segnavo da bambino con i raggi questa ha fatto disastri è proprio attaccato forza gli le mani e guarda saluta le mani e una salutata e l'altra ah due ciao vabbè un nope e anche noi che è buon ma anche un po' ma anche un po' un po' di tutti l'arrivo viene marrano si sfido a singolar tensione come on i think i see where they getting in this one must have knocked it over trying to get through he's tangled up in there pretty good come on help me get this thing back in place so we can get mr. crispy off mr. crispy off mr. crispy off mr. crispy off e ciao anche a te no 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 fai da solo se stai waiting for that guy to help it ain't gonna happen come on è bene ti do la mano ma farlo da dentro non era meglio è più difficile da dentro l'ho ritassato l'ho ritassato senza sedia di tutta parte ecco è morta nella merda è morta nella merda perchè perchè si chiuderebbe si chiuderebbe si chiuderebbe si chiuderebbe quindi io poi ha acceso il recinto per quello che vuoi ha capito ha acceso il recinto perchè mi ha risparato il bambino ora chi è questo? non ho capito f*** ora cosa? con un pincel in quella gate è l'unica via c***o 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 l'ho avuto un colpisco sul volante ha fatto un fuirlato una m***a davvero? non sa... voglio essere andata così tanta f***i l'ho pensato ecco perché? c***o è uno dei morti che abbiamo riuscito dovresti andare tanto lo farei tutt'io c***o lupo ciao che c'è via in faccia l'euro sportello il conto di scritta posto stessi tutti i culo Ho detto, ho detto, dattici il culo. Sono i banditi di rio, sono. Ma figlio di cu... Non te lo ricordavi? No. Guarda che un quale cattivera. Pazzuolo. Ok, quella. Sto imbafando il culo. Sì, sì, sto da dio. La foto. No, 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 no. Sa che si prende. Lasciami stare. Lasciami. Bravo. Stadissimo, dovevo dire. Sto imbafando i miei bambini. È giusto, giusto. Prego. Quante recite è a posto, però è anche aperto. A parte che loro sono esseri umani, perché qua c'è anche loro di dare un calcio. E' aperto di lui. E qua ci saluta Johnny Quattroocchi. Che lui rimane qua, che gli si prendono cura di loro. No, di loro, di lui. E' aperto. Ci stavano giocando, stavano facendo il tiro con l'arco e ho sbagliato. Oh no, honey, come on, Brenda's got you. Come on, inside, now. Ci rimettiamo fuori, si, si. Che tipo di c***o è questo? Abbiamo riuscito a ricordare. Finora te l'ho mandato gli input e non te lo ricordate. Quello dei lì e ho tolto quella parte lì, che tra l'altro penso sia segreta. Vuoi farlo o non ho fatto? Non l'ho vista. E poi l'ho messa a cazzeggiare in casa. E chi ho visto? Ciao! Eh? Lì ho capito cosa stava succedendo. Oh, ma cosa è? Ci stavano perdendo. E' veramente fatto da lì. Cioè, per tutto che l'abbiamo già giocato. Esatto, per farci perdere la condizione del tempo deve essere veramente... una relazione definitiva. Eh, tenendo conto che è una avventura grafica, hanno reinventato le avventure grafiche. E' stato il primo gioco con cui ho iniziato a pensare nel territorio. No, io con Back to the Future, che era praticamente il quattro. E' stato il primo gioco. E su questo si fai una relazione di merda. Eh, ma non puoi andare avanti. Dice che si era sentita. Dice che si era sentita. Eh, secondo me si. Così è quel gesto. Cambogia. L'ho capito. L'ha schiaffeggiata. Ehi, figli. Guarda cosa ha di lavorare per te. Un sping! 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 Ehi! 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 Diverso tenera! Dive quello che si è rossi del scientifically! Diverso cranci! Son cranci, son crispy. Ciao! Ancora! Questa è una chiusura della lampera! Sfuoriamo sempre. Sono 25 minuti. Eh, vabbè. Eili chi te l'ho detto? Potremmo registrare da fiume? No, perché sennò. Ma no, non più c'era Nuovemmo la chiusura. Cioè, credevamo brutalmente. Era ancora comunque, neanche ciao. Perché il video sarebbe tutto con gli occhi a condicini. Per quanto ci piace. va bene comunque fine del sesto settimo fine del ventordicesimo episodio settimo mi sembra settimo sì anche secondo me ottavo no settimo dipende no abbiamo iniziato da che punto guardi il mondo tutto dipende ti dicevo no perché ce n'è uno che è avuto quasi 40 minuti dipende comunque ciao come vi avevi detto la volta scorsa mettete il pollice in su se vi piace il video no quello non l'abbiamo detto non dirlo mai allora facciamo presenza ciao commentate condividete fate quello che volete e soprattutto spero che state passando una buona estate perché questo video uscirà agosto già sì penso che sarà già agosto e qua fa caldo fotonico già adesso e ciao in questo momento che ne sono le sei quattro ore forse ho appena tolto le quattro ore dall'acqua io dall'acqua del ballo tu metti questo video mi lascio guardare io invece sono ancora qua a mettere i video bravo perché il capo è quello che lavora sempre di più ci vuole qualcuno che porta avanti la balacca il capo è quello che va in prima linea vaffanculo se mi caschetti ciao ciao ciao